Presidente Enrico Lupi, è il momento di fare almeno un primo bilancio di questa olioliva in una sede un po' modificata, comunque con tanti pullman di turisti che sono arrivati e sono stati registrati. Allora, come è andata? Dividiamo due spaccati dal punto di vista del risultato dell'aspetto culturale, scientifico, dei focus che le organizzazioni in categoria hanno realizzato su temi di estrema attualità, sul dibattito con la regione di Guria circa l'oleoteca, sul convegno anche del significato sacro dell'olivo, fatto dalla Serra Club, insomma da tutti questi momenti di confronto direi decisamente molto bene. Oggi pomeriggio ci hanno chiamato da Roma dove fanno il mercato del Mediterraneo, hanno voluto che noi parlassimo di olioliva di questo evento nel loro contesto, in audiovisione, direi molto molto bene. Sotto il profilo del risultato commerciale, espositori, stiamo monitorando azienda per azienda tutti gli espositori, abbiamo realizzato anche con una serie di intervistatori, visitatori italiani e stranieri, vedremo i risultati. Per quel che riguarda la città, oggi abbiamo documentato il centro storico, qual è lo stato dell'arte e quindi metteremo insieme tutti questi elementi che l'amministrazione comunale che ha voluto lo spostamento fisico della location per il rifacimento dei portici, vediamo quale sarà il risultato e poi naturalmente prospetteremo insieme all'organizzazione in categoria quelle che sono le valutazioni oggettive della nuova edizione 2019. 2019 va in archivio 19 anni, 2020 è il ventennale, bisogna pensare a qualcosa, come dire, di esplosivo? La volontà della Camera del Commercio che in questo momento rappresento, con la sua azienda speciale, è di realizzare un progetto ancora più grande, ma sono molto soddisfatto che ieri, durante il lancio della nuova campagna promozionale che la Regione Liguria ha voluto in questo dibattito, convegno nel Comune d'Imperia, vi è stata assonanza tra il Sindaco d'Imperia, il Presidente Toti, tutti hanno riconosciuto il valore dell'evento, Olio Oliva e quindi tutti insieme ci si è impegnati a pensare in grande per il 2020, anche con un appuntamento di carattere internazionale molto forte. aggiungo che la Fondazione Carige è sulla stessa lunghezza d'onda che ci sostiene, così come la Banca d'Alba che per la prima volta si è approcciata a sostenere Olio Oliva, quindi così come la Fratelli Carli che ormai da alcuni anni ci accompagna e oltre ad essere sponsor ha esportato nei propri store al nord Italia l'evento Olio Oliva. Quindi come dire, il 2020 sicuramente ha queste premesse.